Allora, chiuderemo il ciclo. Che diavolo? Questo è Atom. E... ...com'è chi? ...e... 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 ...te lascio. Sì, tu fanno io. Cioè, io mi vado a Cattino o cosa non fanno? Non fai bene. Questo è quello? Sì, sì. Ah, no. No. Ah, no. Se vedete che io ho sempre prescoltato che voi vi parliate. E in effetti è la ragione, visto che quando deve fare bene non ci riesce. Come posso io? No, fermati. E devi dare altri soldi. Sì. Ah, ok. Ok. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Di a te. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.